Musica Della lista Avvocati 4.0 fa parte anche l'Avvocato Alessandro Vicario Perché la scelta di partecipare a questa competizione per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capovetela? Ho deciso di candidarmi nel gruppo Presidente Adolfo Russo e insieme a loro ho condiviso fin dal primo giorno il programma della lista Avvocati 4.0 Ho deciso di presentare la mia candidatura anche in questo momento difficile per l'Avvocatura Sono consapevole che è una scelta coraggiosa ma nello stesso tempo mi dà grandi responsabilità per quanto riguarda il mio impegno per il gruppo Avvocati 4.0 I tempi che stiamo attraversando per l'Avvocatura sono veramente difficili Mi rivolgo prevalentemente agli Avvocati che sono sfiduciati, sono stanchi Però vorrei dire anche a loro che l'assenzionismo è anche accettazione di ciò che decidono gli altri L'assenzionismo è anche il non voler incidere sul proprio futuro E quindi io proprio a questi Avvocati mi raccomando affinché possano venire fuori da questo isolamento e di non mandare deleghe in bianco Pertanto la mia quotidianazione è quella che mi impegnerò nei confronti di tutti gli Avvocati del Foro di Santa Maria In modo costante e incestentemente tutelare l'immagine, il decoro, l'autonomia e l'indipendenza degli Avvocati Perché soltanto con l'Avvocatura libera e forte noi possiamo garantire la libertà e le fermazioni dei propri diritti Grazie